perché va male qua Vivio tra le righe la spara, ce la dice forte il Milan così l'altro giorno ho fatto la mia previsione in box to box, credo averlo messo vinto fuori dalla Champions però Vivio qua in Italia perché ci sono delle cose che non funzionano, Manonella in Premier League per valore che squadra è? la domanda è quella però non confondere perché sono due leghe diverse sotto tanti punti di vista e su alcuni punti di vista il Milan avrebbe grossi vantaggi a giocare in Premier League perché per esempio io e il Milan sono un anno e mezzo intero che lo vedo in grossissima difficoltà quando attacca quelle squadre iper mega organizzate che si chiudono, cosa che in Premier League non succede praticamente con nessuno capito? E perché lì devi trovare soluzioni devi trovare tante soluzioni, l'Inter, la Juve l'Inter, la Juve, il Milan il Napoli affrontano quasi tutte situazioni così di conseguenza c'è la qualità delle giocate del singolo c'è la qualità del giocare nello stretto quello che poi è mancato secondo me tanto per i diritti alla Juve e Empoli la poca velocità non si sono fatti vedere fra le linee sono stati sporchi Nico González e Covminers quello è fondamentale infatti oggi quando parlavo della partita di Juve e PSV ho detto secondo me oggi si troveranno benissimo perché il PSV è una squadra che conosce solo l'attaccare vince 39 partite su 40 di conseguenza non fa una partita speculativa però Vivio Vivio scusami è una cosa la Juve se non vince a Empoli è per il problema che ha avuto anche stasera che si chiama Dusan Blaovic la Juve giocava 10 contro 12 stasera sì però quella l'ho vista quella l'ho vista Blaovic è vero sono d'accordo però ma oggi ho fatto ancora peggio molto male però ti dica Empoli ho fatto l'assist dato un passaggio Nico González sì sì ho capito però se c'è la Juve che è la Juve c'ha una punta che è una punta quel pallone che gli dà González lo butta dentro e finita la partita il grande campione lì quello se ci fosse stato Treseguet ma ne faceva Treseguet in quell'azione e mi ha detto a parte che non hai detto Vinco Pallino ma hai detto Treseguet no ho capito però parli di Juventus parli di uno è stato pagato sono d'accordo però però penso che ha pupato ha pupato io questa cosa l'ho detta mille volte sotto tantissimi punti di vista la Premier è sopravvalutata la Premier è il miglior campionato al mondo e non ci sono dubbi con i migliori calciatori al mondo e non ci sono dubbi ma sotto tanti punti di vista è sopravvalutata io le partite me le guardo me le guardo tutte le domeniche e ci sono alcune alcuni obrobri tattici in alcune partite che sono inguardabili poi dopo c'è una forza fisica incredibile da parte giocatori c'è tanto recupero agli errori ma anche il Liverpool stesso e il Liverpool stesso cioè fa degli errori a volte tattici incredibili certo che Conate fa un errore e fa sei passi recupera tutti gli altri diventa più facile però questo magari anche errore però loro vedi cosa fanno ti creano questa pressione forte 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 poi ti recuperano chi è che ha detto il giocatorino Ildis allora Zazzaroni arriviamoci a questo Zazzaroni prima della partita guarda i giorni scorsi dice questo Ildis al momento è un giocatorino non mi avete cagato di striscio l'altro giorno ho detto una cosa ho detto che ero molto contento siccome Ildis ora lo posso dire dopo che ha fatto sto Eurogoal ha fatto tre partite male male ero molto contento molto contento che non avessero iniziato a rompergli i coglioni a un ragazzo di vent'anni che ha bisogno del suo tempo ero molto contento perché la mia paura è classica a tutti gli diventini e invece Zazzaroni ha rotto i coglioni ma Zazzaroni io gli voglio bene ma io penso che ora sono gli ultimi due anni che non ne indovina veramente una ma lo dico perfetto ma rispetto per il direttore ha portato benissimo a Ildis è detto così un giocatorino vi faccio vedere questa roba perché è pazzesco sta cercando di battere il record di Enerix perché Enerix è incredibile anche lui ha un talento straordinario Enerix dice che il Real vince la Champions e si retrocede in Liga 2 sì sì è vero pazzesco e se dice che Bologna farà una Champions vergognosa vince la Champions vi faccio vedere questo perché è incredibile Ildis oggi esordio in Champions segna batte il record di Alessandro Del Piero il giocatore della Juventus che fa il gol di Champions League più giovane di sempre il record ce l'aveva Del Piero al suo esordio 29 settembre del 95 ma guardate i due gol quello di Del Piero me lo ricordo bene guardate i due gol ragazzi sono imparagonabili dai sì però ha una roba troppo più difficile quella finta che fa di corpo è qualcosa che solo lui però non esagerare ho capito ho capito ho capito la differenza c'è in realtà Matte quello di Ildis il portiere non riesce neanche a arrivarci vicino perché tira molto più forte di Del Piero molto più forte quello di Del Piero è più angolo però adesso il dilemma non è del Piero la tocca il portiere Ildis non ci arriva neanche il portiere va in crocio gol Riccardo i palloni pesavano il doppio all'epoca beh arriviamo Luque che sei abbonato grazie grazie Luque grande no fammi dire io pensavo io pensavo io pensavo ti puoi anche distruggere ma non dico niente pensavo no no io pensavo che l'anno scorso era amico di Giuseppe di Nazare ha pacchato l'incrocio sembra Lollo Pellegrini ha scritto uno in giallo bastardo pure là andiamo avanti pure là tu adesso tutti a criticare continuate a copiare quello che vi dico dei romani ma guarda il problema il problema non è di Pellegrini cioè il Pellegrini il problema è dei romani ragazzi quando arriva Pellegrini pensano lo vogliono far diventare il nuovo Totti quindi poi la colpa non è di Pellegrini ma di che io comincio a considerare no vabbè ma io non criticavo perché mi ha fatto ridere il messaggio no no c'era bene un camellio c'era bene un camellio no 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 ma io stavo riuscendo a mettere Murigno dentro il discorso no 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 ma io cerco di aiutare una piazza romana allo sbando Alessio Romagnolo e tifoso da Lassa ieri un altro casso di disastro stiamo commentando il dice del Piero cosa c'è? no arrivo aspetta altri argomenti altri argomenti oh ragazzi mi avete trotto 500 volte fatemi finire stancato no vai parla di Murigno sto incazzato un momento Murigno no io voglio far crescere la piazza romana il giornale è quello sport che si è nazionale però più vendite c'era a Roma ok quindi i pellegrini hanno avuto il cazzo no Totti il fiode Roma il capitano Lollo Lollo Brigia tutte ste minchiere qua Romagnoli chiama ancora Cerbi è più vecchio di me il nazionale dice giocava a 4 no ma gioca a 3 dietro e come sta? ne ha chiamato ok il disse caro Zazzoli pensavo che tu scherzavi con Murigno un amico tuo ma De Caccio veramente hai perso proprio la bussola ma come fai a dire un giocatorino poi di non mi piace è giovane ma non puoi offendere un cacciatore così si vede che è forte che c'è stata chiacchiera eh Carlo se te licenzia non me ne frega un cazzo cioè mi dispiace ma te però è andato no ma guarda non commento come vorrei commentare perché ha detto i miei licenziano veramente ingabbiato ingabbiato Carlo eh vabbè che vedo no vabbè comunque anzi oggi 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 pensare a una lancia in favore di Vlaovic perché secondo me fa fa una buonissima partita tranne il momento in cui conclude Carlo ha sbagliato tutto aspetta aspetta paggella 4 non non secondo me oggi 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 sarebbe ingeneroso prendersela troppo con Vlaovic me la prendo più contro l'Empoli quando viene mangiato dai Smiley veramente se lo mette in tasca e sbaglia l'occasione d'oro per però diciamo che che sei dato da fare fa un bella assist eh cioè oggi oggi ho visto un calciatore che ci ha provato che si è impegnato capito se vieni pagato e che poi è che è totalmente anche qua in chat due assist assolutamente il primo assist quello su McKennie lui sbaglia lo stop la palla finisce McKennie che ne segna no 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 vedi quasi cattivo secondo l'assist quasi cattivo lì va va sul difensore va a contrasto sul difensore poi il rimpallo fa finire il pallone a McKennie ma ne ha sbagliato in una quantità che non sia un assist che non sia un assist voluto sono d'accordo con voi ma dire ha sbagliato lo stop è sbagliato perché lì va a mettere semplicemente il corpo per non farla prendere al difensore poi il pallone va a McKennie quindi il suo merito c'è in quell'azione io dico che è incastrato mentalmente va bene tutto tranne quando conclude e fa l'attaccante Carlo l'hai spiegato perfetto scusate l'ho sfondato e mi hanno sfondato perché ho detto che per me è più forte Christofic del Lecce quindi io sto dicendo che oggi ho notato un calciatore proprio incastrato mentalmente che continua ad applaudire i compagni per l'assist per la giocata ma lui è incastrato a parte Manchester City Inter che partite di merda ci sono domani sto guardando adesso domani c'è solo quella adesso ragazzi c'è il debutto di Bologna però eh dopo tutti questi anni Bologna-Shakkar sì non grandissime partite domani per fortuna c'è Manchester City Inter ma un'altra cosa che ho scoperto è che mi riempie di gioia l'ho scoperta oggi è che non c'è praticamente noi avremo calcio tutte le settimane tutte le settimane sì cioè l'Europa League si svolge in una settimana diversa sì la prossima sì la prossima ma da sola quindi l'Europa League sarà martedì mercodì giovedì non mi ricordo se non sempre non per tutta la stagione ma all'inizio sì non per tutta la stagione ma in questo caso sì però non per tutta la stagione poi dopo si tornerà il giovedì come al solito insieme alla Champions League oggi ho fatto un bella assist c'è una domanda per Vivio di Accipicchia ma al Milan spendere 15 milioni per Emerson Royale poi regalare questo Calulu alla Juve mossa imbarazzante Calulu oggi uno dei migliori in campo ma non non li metterei nello stesso discorso nel senso che capisco quello che dici ma sono due giocatori completamente diversi cioè secondo me Calulu non può fare il terzino come lo fa Emerson Royale o con le caratteristiche di Emerson Royale può fare il terzino in una squadra che ruota un po' e alza di più il terzino dall'altra parte un po' stile Italia di Mancini agli europei però a me Calulu è un giocatore che piace secondo me ha fatto sempre molto bene ha grande capacità fisica mentre non mi fa impazzire Emerson Royale al Tottenham ha fatto non male malissimo cioè proprio è visto come una delle cose peggiori che è capitata negli ultimi dieci anni però Calulu rivediamolo Emilia perché oggi non l'ho visto io parlo in generale la squadra sono scarsi ma aspetta secondo me questo PSG girone è bella domani mi sbilancia a dirti che finisce con due barra tre gol di scarto per il Paris Saint-Germain se il girone è quello che ho visto con il Bastillo ragazzi ripestiamo Dobrik il girone così è Matte che volevi dire il tuo Danilo è entrato oggi hai visto lo ha messo fa la riserva di cani ringrazio anche Enerix per il ride ciao ragazzi per i ritrovati volevo dire ad Enrico che il PSV sicuramente l'era divisa non è questo grande campionato ma è una squadra che ha fatto cinque partite cinque vittorie e venti gol quindi tanto scarsi non vale il campionato olandese non vale non vale intanto aiuta il giornale grazie Cristiano per Camelio per Camelio ringraziamento di Camelio dai tu così come il campionato italiano è più scarso rispetto a quelli inglesi ma no non c'è quello step ho capito però venti gol in cinque partite vinci tutte e cinque partite scarso non sei puoi giocare pure in serie mancava il portiere di dolari su altri tre giocatori ah tra l'altro me la fate domandare a Vivio questa cosa perché a proposito del portiere del PSV anche Boban si è esposto eh mi dici la tua incazzata ecco quella è una grande cazzata la ridiciamo perché magari in chat tanti non l'hanno non l'hanno sentita Boban ha detto ma cos'è questa moda del calciatore che prima di una partita di Champions va via si assenta perché è nato il figlio prima giochi la Champions di Champions Grazie a tutti.